ciao a tutti eccomi su questo canale non per fare una recensione ma avevo molto molto piacere di spiegarvi chi sono e che cosa faccio per tutto il resto del tempo e cioè quando non faccio recensioni di scarte mi chiamo carlotta running charlotte e soltanto un espediente per ingentilire quello che sarebbe stato un carlotta di corsa che aveva troppe c dure running charlotte mi sembrava molto più dolce molto più adatto alla mia personalità per cui ho deciso così ma per tutti sono carlotta non charlotte il mestiere cosa faccio faccio tante cose diverse ma sicuramente tutto il mio tempo lo dedico oramai da dieci anni a lavorare per il mondo del running infatti faccio la coach sono tecnico fidal ho studiato e ho fatto tanta esperienza per portare le persone a correre e mi occupo di una categoria di persone molto particolare cioè tutti noi incredibile vero tutti noi che ad oggi non abbiamo ancora trovato il nostro allenatore perfetto perché l'allenatore ci sembra qualcosa di troppo complicato troppo per professionisti mentre noi siamo ancora allo step precedente dell'allenamento il mio ruolo è proprio quello arrivare lì e permettervi e permetterci di sbocciare nel mondo del running quindi di prendere consapevolezza di quelle che sono le nostre le vostre potenzialità nel mondo della corsa su questo ho fatto tante esperienze ho seguito decine e decine di persone dopodiché se volete io continuo a seguirvi altrimenti potrete fare da soli oppure farvi seguire da un allenatore più vicino a voi ma in quel momento lì il passo più importante l'avrete già fatto perché avete preso in mano la situazione la vostra situazione di runner e questa è un po la mia abilità poi come sapete testo scarpe adoro testare scarpe da running ne parlo tantissima parte della mia giornata per la non gioia di quelli che mi stanno di fianco perché diventa un po prescindere dall'altra e poi ovviamente sono una runner sono una maratoneta amatoriale come probabilmente tutti ma come solo per alcuni nel momento in cui corro scatta per me un grandissimo amore correre penso che sia l'attività che mi piace in assoluto di più sulla faccia della terra poi c'è tutto il resto che è bellissimo ovviamente non è la mia unica priorità ma diciamo che ne ho fatto gran parte di quella che è la mia vita oggi seguo persone online o un mio metodo che è un metodo che mi piace chiamare running power ment con questo termine un po inglese che sta tanto bene con running charlotte cosa su cos'è il mio metodo su cosa si basa il mio metodo è un metodo semplice e semplice la parola giusta perché il primo obiettivo è proprio la semplicità il non complicarsi la vita e poi ci sono quattro pilastri che bisogna sempre ricordarsi a mio avviso il primo è la flessibilità l'allenamento deve rispondere a quelle che sono le vostre le tue esigenze non a quelle della tabella in primis davanti ci sei proprio tu per cui la tabella deve essere così flessibile da adattarsi alle sue e alle tue esigenze per cui la tabella deve essere così flessibile da adattarsi alle tue esigenze non a quelle dell'allenatore anche se alle volte l'allenatore anche un po ragione secondo pilastro no stress quante volte ho conosciuto persone stressate dalla tabella sembrava quasi che la tabella fosse un esame scolastico non siamo all'università e io non sono un prof la tabella è soltanto un metodo per dialogare se non riusciamo a dialogare dovremo trovare un altro modo non dovremo cambiare noi stessi mi raccomando terzo pilastro fondamentale e questo non mi stancherò mai di dirlo si va forte quando si deve andare forte e si va piano tutto il resto del tempo perché andare sempre forte o cercare di andare sempre forte ha risultato di farci andare sempre troppo piano anche quando dobbiamo centrare l'obiettivo e qui non funziona quarto punto fondamentale la salute ce lo dimentichiamo troppo spesso correre deve farci bene per cui nelle mie tabelle e nei miei programmi nel mio metodo c'è sempre una parte dedicata alla prevenzione infortuni al stare bene e alla misurazione dello stress che non deve mai 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 sfociare in sovraccarico o peggio ancora in overtraining quindi c'è anche questa parte qua perché ricordiamoci che correre fa bene punto fa bene a tutti certo è che dobbiamo saperlo gestire quindi se volete conoscere il mio metodo meglio iscrivetevi alla newsletter sul mio sito www.running charlotte.org ma se volete maggiori informazioni e essere allenati da me scrivetemi pure qui sotto ciao ciao